Stefania, parto da una citazione. Non si può leggere ciò che non c'è prima stato letto. Forse qui c'è un po' tutta la tua filosofia di vita. Sì, chiaramente è una cosa che penso davvero ed è la cosa che cerco di realizzare qui in libreria. Cioè il fatto di leggere ai bambini, leggere ad alta voce, è qualcosa di fondamentale perché poi questa voce rimane dentro di noi, fa la sua strada, fa il suo percorso e diventa nostra. E questo credo che sia una cosa assolutamente fondamentale ed è quello in cui io credo moltissimo. Per questo la libreria ha tutta una sua filosofia dietro che sta anche in questa frase sicuramente. Libreria significa foglie d'oro, ma foglie d'oro significa anche qualcosa di più. Io mi riferisco all'associazione e a tutto quello che avviene sotto questo nome. Ma perché le foglie d'oro? Intanto il nome ha un'origine, insomma, legata alla mia famiglia. Era un libro che avevo da bambina ed era un libro in realtà che non è mai stato pubblicato. Scritto da Giuseppe Fanciulli e illustrato a Carlo Ceci per il suo diploma alla scuola del libro. Mio nonno era segretario alla scuola del libro di Urbino e quindi aveva in casa questi libri. Quando è stato il momento di scegliere il nome della libreria ho pensato a questa storia. Quindi da qui le foglie d'oro. Le foglie d'oro sono tanto, sono sempre state da subito. Comunque l'idea è sempre stata quella della libreria per bambini e ragazzi. Quindi questa è la cosa che io credo sia importante e fondamentale ed è quella per cui comunque lavoro alla fine. Perché anche tutti gli incontri che faccio con le classi, l'associazione, il progetto, servono a dare ai bambini, ai ragazzi e anche ai genitori degli strumenti per poter scegliersi poi i libri che vogliono leggere. Ma qual è il libro che veramente ha cambiato la tua vita? Cioè che ha caratterizzato poi una tua scelta o le tue scelte? Un solo libro non c'è perché è difficile proprio individuare un libro. Questi libri avevano la particolarità, questi libri che aveva mio nonno della scuola del libro, di avere le figure dentro che allora era una cosa abbastanza rara. Quindi ti perdevi anche in una sola figura, ti perdevi proprio. Cioè la capacità di immergersi dentro l'immagine e andare oltre quello che l'illustrazione ti mostra è qualcosa tipico dei bambini e a me succedeva sempre. Questi libri sicuramente per me hanno segnato comunque una parte sicuramente della mia immaginazione, del mio immaginario. Poi ci sono stati i romanzi, ho iniziato a leggere, credo un po' come tanti della mia generazione, abbastanza presto. E quindi tutti i romanzi classici, dalle piccole donne, ma anche la capana dello zio Tom, l'isola del tesoro, io ho adorato l'isola del tesoro per esempio. Erano libri che comunque uniti al fatto che ti mancavano tante cose, quindi comunque erano veramente dei momenti di viaggio in qualche modo. Tu ti immergevi in questi luoghi, in questi libri e viaggiavi, ed è vero che viaggiavi. Viaggiavi perché poi non avevi migliaia di cose da fare durante la tua giornata. Io sono convinta di una cosa, che i libri che si leggono nella prima infanzia siano diversi da tutti i libri che poi leggiamo. Ci segnano in maniera comunque differente. Per questo penso sia proprio importante che un bambino da piccolo abbia la possibilità di leggere, leggere tanto, accedere a tanti libri, poterne sfogliare tanti, perché è qualcosa che poi ti segna. Il libro è anche riferito ai più piccoli come strumento e deterrente rispetto all'abuso dei mezzi che ci sono attualmente. Io penso la televisione, ma non solo, ma soprattutto tutto quello che è arrivato con internet. Sicuramente la televisione, io trovo che sia solo la televisione veramente pericolosa per i bambini, ma non perché leggo, perché amo i libri, eccetera, ma la trovo pericolosa perché ha tanti linguaggi differenti che credo che anche gli stessi genitori non conoscono, perché non l'hanno sperimentato loro per primi. E quindi credo che in qualche maniera un bambino debba avere delle alternative. La televisione per i più piccoli, intendo fino a 8-9 anni, anche 10, è ancora un grande strumento, è lo strumento preferito, secondo me, anche se ci sono tanti altri strumenti. Poi diventano invece altri gli strumenti. È chiaro che se io ho letto, e ho letto molto, sono una persona più capace di approfondire. Una domanda che faccio spessissimo ai ragazzi che vengono qui in libreria, la televisione è fiction oppure è realtà? E tutti mi dicono che è realtà. Cioè per loro quella è realtà, e questo è il pericolo, trovo, vero. Ma d'altra parte per loro è realtà anche il romanzo, in molti casi. Fanno fatica, i ragazzi fanno un'enorme fatica a comprendere che la finzione non è lì per ingannarli, ma è lì comunque per raccontargli la realtà. Chiaramente in un libro la realtà viene raccontata con dei tempi, con delle modalità, con un approfondimento completamente diverso dalla narrazione televisiva, che serve, ma andrebbe conosciuta. Sarebbe interessante a scuola approfondire i linguaggi televisivi. Ma il libro, il cartaceo, sopravviverà a questa era così digitalizzata? Assolutamente sì, secondo me il libro sopravviverà a tutto. Cioè scenari senza libri se ne sono fatti, anche in libri famosissimi, poi anche in film, ma è qualcosa di assolutamente impossibile che il libro sparisca. Il libro è un rituale per chi legge. Probabilmente molti libri spariranno, probabilmente anche i libri di testo in alcuni casi spariranno, ma il libro, le narrative, il romanzo, la raccolta di poesie, il libro per disegnare, per colorare, fatto in maniera straordinaria, ce ne sono tantissimi, questi non spariranno mai. Voi insegnate a leggere, ma soprattutto insegnate anche a saper leggere agli altri, per gli altri. Noi siamo partiti da subito con l'idea della lettura d'alta voce 17 anni fa, perché la lettura d'alta voce è quello che ti fa cedere a una storia. La voce della mamma, della maestra, del maestro, del babbo, di qualcuno, anche del libraio, del bibliotecario, che legge d'alta voce una storia, quella voce lì nella memoria del bambino rimane. Quando lui aprirà di nuovo quel libro, perché rileggerà quel libro e andrà a cercarlo, in realtà troverà quella voce dentro di sé e l'aiuterà moltissimo a leggere. Hai mai pensato di scrivere per i ragazzi? Certo che ci ho pensato comunque, ci ho pensato tante volte. Questo è un periodo in cui io incontro più di 25 autori in queste giornate qui e parliamo di progetti in continuazione, qualcosa poi via via si concretizza, però spesso magari collabora delle cose, ma ancora da sola non ho fatto nulla. Adesso stiamo ragionando da un'anteprima, però ha un libro su Rossini, ma bambino, ma illustrato. Quindi un libro che vada bene per tutti, insomma in questi 8-10 anni di Rossini che ha vissuto a Pesaro, insomma si possa raccontare la storia di questo bambino che si aggirava per questa città e che però aveva un sogno sicuramente. E quindi insomma sto ragionando con alcuni autori, stiamo pensando. Quindi la voglia di farli c'è, però poi dopo ci vuole il tempo che non mi manca. Grazie a tutti.